Io sono bellissimo di aver ricevuto l'invito del professore Massanova e del sindaco Garedano di partecipare a questa mostra, sono contentissimo, sono ancora più contento perché poi il professore Massanova che ha fatto parte della commissione aggiudicatrice del luogo dell'Unione ha voluto che il luogo dell'Unione di Comune di Valera Lento fosse tra i patrocinanti di questa bellissima mostra che da tantissimi anni dà lustro al Cilento e a tutta la provincia di Salento. Quindi grazie al vostro Massanova, grazie al sindaco Garedano e forza, andiamo avanti così sempre. Mi dimenticavo che c'è anche il rappresentante quello che ha vinto il comandante di Laurito che si può dire anche per un saluto anche l'amministrazione di Laurito, giustamente ne fa piacere che... Sì, grazie. Buonasera a tutti. Ho avuto il piacere di partecipare a questo concorso e con vera gioia quando c'è stata la prima azione. Io ho detto di... non c'è un senso di invidia con i nostri, perché con l'Unione dei Comuni insomma avete superato un po' tutti nel territorio. non ne può soltanto dare degli ottimi gruppi, ma chiaramente bisogna divertirsi dei propri campanili e lavorare con solidarietà, quindi mettendosi a disposizione ognuno degli altri. quindi è un auspicio che io faccio a voi e vi ringrazio ancora per questa opportunità che ci avete dato. vi ringrazio il professore che stamattina ti ha detto, se poi c'è la prega di farmi di aver parlato di un ufficio, sono veramente portato. Vi ringrazio anche a noi e a noi e auguri per questa opportunità. Grazie.